Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolisse. Parliamo in apertura del campionato di Serie D. Entro domani, ma il condizionale è d'obbligo, visti gli innumerevoli slittamenti, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale di Lettanti deciderà in merito all'ammissione delle società che hanno dovuto perfezionare l'iscrizione. Il passo successivo sarà la formazione dei gironi e gli accoppiamenti di Coppa Italia. Come sempre la competizione tricolore avrà il compito di battezzare la nuova stagione 2014-2015. Il Campobasso prosegue con doppie sedute di allenamento. Mister Farina, oltre che a provare gli schemi, sta supervisionando diversi under in prova. Le amichevoli servono proprio per decidere il futuro dei fuori quota. Nella prima uscita si è messo in mostra Kabunku sabato. Altro test al Campo Acli di Campobasso contro lo Spinete. Inizia per il Campobasso il sesto giorno di ritiro in quel di Campitello Matese. Altri tre giorni aspettano la squadra nella ridente località Montana. Poi ci sarà il trasferimento nel capoluogo per disputare domenica prossima a partire dalle ore 16 un amichevole contro lo Spinete, squadra del campionato di promozione molisana. La giornata tipo prevede la cura dell'aspetto tattico prevalentemente nel corso della mattinata. Ieri infatti Farina ha impartito alla squadra di svolgere situazioni di 3 contro 3, un efficace circuito tattico per assolvere contestualmente alla fase difensiva e a quella di attacco. Nel pomeriggio la squadra ha fatto un veloce riscaldamento, un lavoro basato sulla forza per poi recarsi nella piscina dell'albergo di residenza per concludere lì la giornata lavorativa. Particolare lo spaccato sociale odierno che consisterà in una visita dei ragazzi diversamente abili del centro socioeducativo Giorgio Palmieri di Campobasso. La maniera migliore per permettere ai ragazzi portatori di handicap di passare una giornata diversa all'insegna della socialità e del divertimento. Aspetto burocratico della Serie D, domani verranno ufficializzate le squadre facenti parte della prossima quarta serie con i relativi gironi. Bisogna scegliere però ancora tre squadre da prelevare dalla Serie D per ripescarle in Lega Pro e rimpiazzare così Padova, Nocerina e Viareggio che non sono state ammesse o non si sono iscritte. Otto domande presentate da parte di Arzanese, Martina Aversa, Poggi Bonzi, Porto Tolle e Torres che sono retrocesse dalla vecchia Serie C e Correggese Acragas, squadre di Serie D. L'orientamento della FIGC potrebbe essere quello di attingere le tre squadre da ripescare tutte dal primo gruppone, quello delle squadre scese quest'anno dalla Lega Pro. Torniamo al Campobasso per sentire il preparatore atletico Walter Brandoni. Tornando indietro con la mente alla squadra dell'anno scorso, alla stagione scorsa ricordo che a un certo punto l'arma in più del Campobasso, specie nelle partite di Coppa Italia fu la resistenza, o sbaglio? Sì, io penso che un fattore molto importante è stato il motivazionale dal punto di vista degli impegni che avevamo di fronte i ragazzi hanno preso energia da dove non ce l'avevano quello è stato un fattore e sicuramente dal punto di vista energetico loro si sono trovati a un livello abbastanza interessante quindi l'idea sarebbe riportare alla squadra noi sappiamo che la Serie D è un'altra cosa dal punto di vista atletico molto più dinamica quindi noi stiamo portando la squadra a questo a farle aumentare le loro capacità però ha un'intensità abbastanza importante per affrontare il campionato prossimo Ecco, quindi il ritiro è stato anche diviso in due fasi dopo la prima parte ci sarà un piccolo riposo credo di due o tre giorni poi scatterà la seconda parte a Campobasso Sì, diciamo sempre lavoriamo con intensità prima si lavorava un po' sulla quantità e dopo sull'intensità noi facciamo intensità e più quantità però il lavoro, la seconda tappa quella del Ripalimo Sani quella che faremo a Campobasso cerchiamo di dare più efficacia ai movimenti dei ragazzi i movimenti più puliti quindi penso che sono due lavori diversi però sempre puntati alla qualità dei movimenti A Dagnone, mentre mister Donatelli prosegue gli allenamenti sono diversi gli under in prova il direttore sportivo Maurizio Sabelli tiene sotto controllo il mercato due le pedine che mancano lo scacchiere Granata un centrocampista senior e un attaccante intanto domenica prima uscita test in famiglia per i Granata mentre il 6 agosto arriverà il Ladispoli abbiamo raggiunto proprio il tecnico Granata Giuseppe Donatelli intanto permettimi di esprimere tutta la mia soddisfazione per tornare ad avere con te un rapporto quasi quotidiano perché sei una persona che stimo da più di 30 anni e quindi permettimi di congratularmi con te per la scelta che hai fatto e con la società Olimpia Agnonese per aver scelto proprio te quindi è veramente un binomio che secondo me può andare veramente lontano grazie Antonio grazie per queste belle parole in effetti ci conosciamo da tanto tempo adesso sono ritornato a lavorare in Molise come hai ben detto è una società sana e spero tanto appunto che ecco che possiamo far bene per cercare appunto di di portare il più in alto possibile i colori della Nata avete iniziato già la preparazione è una squadra naturalmente definita ma probabilmente ancora da da integrare un tantino sì Antonio adesso il mio lavoro è quello proprio di conoscere un pochettino di tutti i ragazzi quindi soprattutto quelli quelli di Uniones perché non li conoscevo qualcuno senior ma gli Uniones non li conoscevo e quindi adesso il mio lavoro appunto si sta concentrando proprio sulla conoscenza di questi ragazzi e sulle loro attitudini per vedere un pochettino ecco diciamo le caratteristiche giuste che hanno per poterli inserire né in prima squadra Certamente serve qualche qualche piccolo ritocco oppure pensi di poter andare avanti così? Adesso le prime amichevoli sicuramente ci daranno delle indicazioni più più oggettive quindi per il momento ripeto per il momento sto valutando il tutto e poi dopo le prime amichevoli cerchiamo un pochettino di mettere a punto tutta la situazione fare un'analisi ben precisa e vedere che cosa può occorrere a questa agnonese Ecco tu questi anni sei stato comunque nell'ambiente quindi è chiaro che anche a livello di giocatori in Abruzzo conosci un po' tutti Sì sì senz'altro insomma quindi è chiaro che dopo tanti anni ho fatto anche il settore giovanile quindi ho fatto anche la serie di col Bigliani con l'angolana quindi diciamo che conosco diversi giocatori però è vero anche che la società intanto mi ha messo a disposizione già una rosa di 23 ragazzi 22 ragazze quindi adesso stiamo valutando il tutto e poi vediamo un pochettino se occorrerà qualche cosa bisogna appunto andare sul mercato e vedere se c'è qualche ragazzo che può fare al caso nostro Va bene Giuseppe un'ultima cosa volevo dirti hai mantenuto sempre un feeling molto stretto con me con Raffaele Di Rizio con gli altri organizzatori anche del Memorial Michele Scorrano quindi il tuo feeling con noi con il Campobasso con il Molise più in generale è davvero molto molto stretto Sì sì Antonio sicuramente sì sicuramente sì perché tu lo sai benissimo quando poi si è instaurato un certo tipo di rapporto insomma lo mantieni per sempre perché anche perché abbiamo vissuto degli anni bellissimi insieme tu hai scritto di tutte le vicende che abbiamo vissuto positivamente quindi ti rendi conto che il rapporto profondo e sincero ci sia tra noi che abbiamo appunto giocato in quegli anni lì a Campobasso e sono contento che ancora siamo amici ancora li sento e poi ogni anno ecco ricordiamo il nostro capitano Michele Scorrano e purtroppo ci ha lasciati però è rimasto sempre nei nostri cuori a Termoli ieri si è svolto un raduno per fuori quota circa 40 i ragazzi arrivati da tutto il Molise ancora da definire con certezza la data del ritiro che dovrà partire a giorni tra questo fine settimana al massimo lunedì motociclismo da venerdì a domenica Cerce Maggiore ospiterà la 14esima edizione del Bikers Festival Memorial Pippo D'Amico tre giorni di musica e biker show con i centauri attesi da tutta Italia e anche da alcuni paesi d'Europa venerdì l'apertura è prevista per le 19 sul palco saliranno dei grandi artisti il clou della manifestazione in programma sabato sera con l'hard rock degli Urian Help in Molise l'unica tappa europea del loro tour Atletica sabato ad Isernia si svolgeranno i campionati italiani di corsa su strada assoluti allievi di 10 km la nuova Atletica Isernia aprirà la manifestazione venerdì con un convegno Mangiare bene Correre a lungo che si terrà a partire dalle 17.30 presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi del Molise in via Mazzini proprio ad Isernia Anna Palermo possiamo dire uno dei cuori pulsanti dell'organizzazione di questi campionati assoluti italiani che ci saranno il prossimo sabato qui ad Isernia vuoi raccontarci un po' come è iniziata questa avventura e quanto vi inorgoglisce soprattutto portare un evento così importante ad Isernia indubbiamente il cuore pulsante però il lavoro è frutto praticamente delle sinergie di tutti a partire dalle istituzioni della nuova Atletica Isernia del comitato regionale Fidal Molise nonché del CONI Molise e degli sponsor perché è importante nominare anche loro che ci hanno permesso di poter fare questo campionato perché soprattutto in una situazione di crisi economica che stiamo vivendo e che forse nella nostra regione si sente di più ci hanno permesso di poter portare un evento di così alta portata qui in Molise siamo soddisfatti anche e soprattutto perché proprio gli investimenti che hanno fatto gli sponsor ma anche e soprattutto le istituzioni locali sono stati ripagati perché ad oggi che le iscrizioni ancora non sono state concluse abbiamo circa 200 persone che pernotteranno per due giorni qui in città abbiamo riempito gli alberghi ma abbiamo riempito anche le strutture ricettive minore come i B&B e inoltre ci saranno tante società soprattutto che verranno dalla Campania e dal Lazio che verranno a mangiare le immagini della corsa insomma intanto diciamolo andare notturna e quindi anche questo insomma si prevede uno scenario più tiro al volo sabato e domenica il Tavriccio ospiterà il trofeo ciclo olimpico 2013-2016 gara di Fossa Olimpica a 50 piattelli fumogini a scorrere il trofeo ciclo olimpico verrà assegnato con un barrage a 25 piattelli a una cartuccia le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 19 di venerdì lunedì prossimo Macchia Valfortore ospiterà il terzo Memorial Nicolangelo Cosè Cordone in campo a partire dalle 16 il Macchia Valfortore le vecchie glorie del Macchia e una rappresentativa della nostra emittente ai nostri microfoni Domenico Durante presidente della società Fortorina Mingo Durante dunque anche quest'anno a Macchia Valfortore c'è il Memorial Nicolangelo Cosè Cordone ci saremo anche noi naturalmente perché voi di Macchia Valfortore siete un po' fra gli amici storici di Telemolise della redazione sportiva di Telemolise quindi anche quest'anno avete voluto ricordare intanto questa persona e poi organizzare alla fine una grande festa sì senza altro anche quest'anno tutta la società compresa l'amministrazione che ci dà una mano abbiamo deciso di rifare il terzo memore di Nicolangelo di Secordone che l'anno scorso l'abbiamo sospetto per motivo di lavoro al campo sportivo lo dobbiamo soprattutto a lui alla famiglia alla mamma al papà alla sorella e ai nipoti e un po' anche a me perché io sono stato il suo padrino alla cresima certamente senti ci sarà la squadra del Macchia Valfortore che parteciperà al prossimo campionato di prima categoria poi le vecchie glorie del Macchia ed una rappresentativa anche dei Telemolise insomma lo standard è sempre quello sono orgoglioso di questo perché le vecchie glorie sono tutti i ragazzi che ho avuto con me negli anni 80 in terza categoria in seconda categoria quando veramente i campionati allora erano tosti e poi ci sarete voi come rappresentanza noi il fine di tutto questo è stare tutto quanto assieme il pomeriggio e poi la sera faremo una bella serata come solito perché Nicolo se lo merita certamente Macchia Valfortore è una comunità insomma che anche grazie a te devo dire soprattutto grazie a te almeno a livello calcistico è presente nei campionati regionali da un'infinità di anni dal 1980 quando io tornai da Milano mi si intesti il progetto che noi dovevamo fare un camionato di calcio con i ragazzi da allora che erano tanti a Macchia ma soprattutto di creare il progetto per il campo sportivo che a noi manca tanto come ben sapete noi sono anni che giochiamo sempre fuori tutte le domeniche ci pentiamo in Garovano per andare a giocare a Gambatese le partite casalinghe e poi negli altri paesi comunque il progetto nostro mio di tutta la società è quello di valorizzare i nostri ragazzi perché loro per l'età che hanno possono giocare altri 10-15 anni nel loro paese a breve se tutto va bene poi ne parlerà l'amministratore se tutto va bene avremo anche lo spogliatoio dopodiché penso che giocheremo tutte le nostre partite a casa quindi insomma il prossimo anno giocherete nel vostro paese il girone di andata probabilmente no perché abbiamo dei problemi appunto per lo spogliatoio quest'anno abbiamo scelto Riccia perché Gambatese è impegnato con tutte e due le squadre la domenica quindi noi non potevamo giocare il sabato però ripeto i tempi sono quelli che sono ma io penso che con l'anno nuovo giocheremo a maggio va bene allora insomma lunedì questo appuntamento alla fine come al solito grande ospitalità io colgo l'occasione per invitare tutti quelli che mi conoscono perché un po' di gente li ho invitati però come sai quando ne sono tanti gli amici qualcuno te lo dimentichi sempre se volete venire noi vi aspettiamo tutti quanti a braccia aperte mountain bike fermano i preparativi per la seconda prova del campionato regionale specialità cross country in programma domenica a Spinete il circuito da ripetere quattro volte si snoda nel centro storico del paese per poi lanciarsi in sentieri single track appena fuori le mura in un percorso del tutto naturale molto tecnico e faticoso le iscrizioni scadono venerdì sera alle 18.30 saranno ammesse tutte le categorie e saranno premiati con prodotti tipici locali i primi tre di ogni categoria oltre ai primi tre della classifica assoluta calcio regionale dopo una stagione importante iniziata con l'FC Molise e terminata a Riccia con la promozione Silvio Tedeschi a diverse offerte l'attaccante del capoluogo sta valutando anche la riconferma a Riccia noi lo abbiamo avvicinato Silvio Tedeschi attaccante ex Riccia ad oggi perché ancora non è ufficiale la tua permanenza nel club di Morrone però qual è diciamo il tuo futuro se ci sono anche in servo altre trattative non lo so guarda sto valutando diverse proposte non ho fretta quindi con calma deciderò la cosa migliore per me da valutare anche gli impegni lavorativi quindi in base alle mie esigenze valuterò non è da escludere che possa rimanere a Riccia così anche di andare in un'altra piazza l'anno scorso hai scelto di scendere in promozione quest'anno invece speri nel ritorno per l'appunto a prescindere a Riccia però in eccellenza sì anche se ormai ci sono poche piazze per disputare un bel campionato di eccellenza una di queste è Riccia però vediamo l'anno scorso ho iniziato la stagione con il Molise poi ho scelto di andare nel club di Morrone sono soddisfatto della scelta che ho fatto e alla fine abbiamo raggiunto l'eccellenza come hai detto tu quest'anno non ci saranno probabilmente né in eccellenza né in promozione quelle squadre che punteranno effettivamente al vertice della classifica si è detto benissimo stiamo vivendo comunque un periodo di crisi e quindi anche il calcio giustamente ne risente noi cerchiamo sempre di giocare in piazze dove c'è serietà competenza e voglio di fare bene non lo so vedremo pure cosa decideranno i miei compagni perché sono molto legato a loro e quindi cercheremo comunque di restare insieme e di divertirci il campionato di promozione l'unica a partire già con la nuova stagione è lo Spinete la squadra del presidente Jacopo Antuono è rimasta l'unica a rappresentare l'area del Matese i motori dello Spinete Calcio sono già pronti a riscaldarsi in questa atipica estate meteorologica tant'è che già da venerdì prossimo la squadra inizierà la preparazione anche in vista delle amichevole contro il Campobasso in programma per domenica 3 agosto al campo Acli fissata alle ore 16 mix di arrivi e arrivederci all'interno del team Matesino unica certezza la solidità e la concretezza di una società che con estrema modestia ha sempre garantito un buon gioco e un bello spettacolo al calcio ma vediamo le notizie del calciomercato a detta del mister Varanese le forze dello Spinete si vorranno concentrare per creare un centrocampo solido e competitivo tra i possibili arrivi in tale ruolo ci sarebbe quello di Luigi Di Lallo tatticamente intelligente tanto da garantire un buon equilibrio sul campo insieme all'ex Riccia ci sarebbe anche Alessandro Di Claudio per ora però questi sono tasselli ancora in via di definizione insieme a Di Lallo Di Claudio dunque a Spinete circola anche il nome di Stefano Mastropietro ex Boiano e quindi con alle spalle la partecipazione in Serie D con una vena di ramarico invece la società sarà costretta a dire addio a Tasillo che con molta probabilità giocherà con il Termoli e a Sabatino e a Romano per diversi motivi meramente personali un buon tassello in difesa rappresentato dall'arrivo di Primiano Sedile ormai ex Castel Mauro che con la sua solita determinazione ha abbracciato il progetto sportivo dello Spinete mister Varanese si è detto particolarmente soddisfatto per l'arrivo del buon portiere che potrà garantire massima solidità ai suoi pali ragazzo dall'intensa esperienza e grande professionalità su cui la società dello Spinete ha già puntato i fari le migliori aspettative a cui si darà ampio spazio a cominciare proprio dai preparatori quali Doganieri e Derriccio che insieme allo stesso Varanese appronteranno per la prima volta la squadra Juniors al fine di garantire una certa continuità al gioco della squadra l'obiettivo non celato per i matesini è di certo la salvezza ma con volontà e seretà si sa bene che si potrà lavorare al meglio per guardare il campionato dall'alto della classifica le basi per fare questo lo Spinete già le ha da venerdì in poi si dovrà continuare dunque a lavorare al meglio e con la professionalità già note agli esperti di calcio è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio grazie a tutti per la visione